Insieme per il futuro non è un partito, io non ho fondato un partito, lo voglio dire chiaramente, non ho voluto e non voglio fondare un partito personale, ma stiamo promuovendo una costituente dei territori, nulla può nascere semplicemente all'interno delle istituzioni, deve nascere sui territori e noi stiamo promuovendo un grande cammino e tutti coloro che vorranno aggiungersi saranno i benvenuti, partendo da chi amministra i territori, i presidenti dei piccoli comuni, i sindaci delle città metropolitane, i sindaci dei comuni italiani, i presidenti delle province.